Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento nel contenuto odierno parleremo della conferenza start del nostro mister Tiago Motta prima della partita con lei ma voi nel frattempo continuate a sopportarci con il mi piace, commento in descrizione per voi è tutto gratis ma per me è fondamentale perché ci fa crescere come canale più cresciamo come canale più portiamo contenuto più portiamo nuovi format però abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno della nostra community perché più cresciamo e vi prometto che faremo delle live con ospite perché come sapete a me non mi piace fare il monologo a me piace avere un dibattito perché voglio conoscere anche il pensiero di tutti voi se faremo delle live faremo le live con voi con voi della community perché vogliamo sempre più partecipi al canale e allora io ho visto un Tiago Motta concentrato un Tiago Motta che ha risposto a tutte le domande ma il punto interrogativo qual è? voglio sapere cosa c'è in quel foglietto perché lui appena arriva prende quel foglietto prende la penna scrive e legge sono proprio curioso di vedere cosa c'è mai in quel foglio perché a oggi nessuno gli ha chiesto mister cosa scrive in quel foglio un giorno forse a fine stagione qualcuno glielo dirà se le cose in casa io andrebbero bene ma quello che mi è piaciuto di più è quando lui ha detto qui non si deve fare gli interessi del mister interessi del giocatore qui si deve fare solo l'interesse della Juve cioè quella di riuscire a portare alla vittoria la Juve quella è l'unica cosa che conta ha detto su Copp e su Douglas sono due grandissimi giocatori così come tanti altri della Rosa sono contenti di poterli allenare in queste due settimane sono allenate bene però a oggi non ho deciso che squadra che dovrebbe scendere in campo ricordiamo che Empoli è di secondo me nella testa di Tiago Motta anche se non lo dirà apertamente calcolerà i sudamericani arrivati chi ieri, chi stamattina ci saranno gli impegni oltre all'Empoli poi martedì ci sarà la Champions contro il PSV in casa e poi domenica ci sarà in Napoli e deve capire come gestire bene il turnover perché parliamoci chiaro gli hanno fatto pure questa domanda essendo che è la prima volta che è impegnato in un doppio confronto cioè il campionato della Coppa Europea come lui e il suo staff sapranno gestire lui come ha risposto non cambia niente al livello di turnover si gioca, ci si allena e si recupera partita dopo partita noi pensiamo prima alla partita di domani e poi alla partita di martedì e poi alla partita di domenica è un ragionamento giusto? sì a oggi come abbiamo visto Tiago Motta non guarda nessuno in faccia come ha detto lui non guarda l'età non guarda di che nationalità è non guarda niente lui guarda chi si allena bene chi si prepara bene alla sfida di campionato di Coppa oggi molto probabilmente non schiererà Niko Gonzales perché non lo vuole rischiare ma Niko Gonzales faccio l'esempio tu sei benissimo se non gioca domani sarà titolare in Champions il problema è un altro il problema è che se non c'è Vlaovic non ha il sostituto di Vlaovic poi è vero che Tiago Motta non gioca col numero 9 però ha detto di Vlaovic porta grande entusiasmo arriva sempre con grande voglia energia positiva sono davvero contento di lui io lo vedo arrivare con quell'energia con quella voglia di fare perché ha bisogno di essere lui l'attore protagonista perché lui è secondo me dovrebbe essere il punto di riferimento dei giocatori della Juve perché tanti big sono andati via se noi andiamo a vedere a oggi togliamo Perin chi è il giocatore che ha più presenza e con la maglia della Juve oltre Danilo possiamo mettere Vlaovic perché è quello che è più tempo alla Juve e lui deve essere quel leader che negli altri anni non c'è stato poi ha parlato anche di Azic l'ho visto molto bene sta allenando alla grande però deve preoccupare ci vuole tempo io non guardo l'età non guardo se c'è guardo chi sta bene Danilo ha detto e qui su Danilo possiamo aprire un capitolo quanto volete voi a oggi in tre partite ha giocato davvero pochi minuti Danilo è un giocatore molto molto importante per noi può giocare in diverse zone della difesa come abbiamo visto può giocarci a centrale come lo scorso anno ma anche come terzino qui il problema è un altro come lo vede Diego Motta è come vuole giocare Danilo perché se Danilo a oggi si mette in testa che vuole fare il difensore centrale a oggi i due difensori centrali sono come si chiama Bremer e Gatti i titolari poi come abbiamo visto non c'è non c'è non c'è mai mai nessun titolare nella Juve di Tiago Motta come abbiamo visto già in tre Juve diverse tre formazioni diverse poi andiamo a vedere la partita abbiamo parlato anche dell'Empoli vogliamo fare una grande partita sappiamo cosa andiamo incontro la squadra sta crescendo sotto l'aspetto tecnico ma possiamo fare meglio l'Empoli difende Bassi riparte noi dobbiamo essere bravi a giocare a calcio a creare occasione ma anche preoccuparci di portare la partita ai nostri termini non ai termini dell'Empoli perché contro la Roma a un certo punto per troppo entusiasmo per troppo l'idea di fare quello e vincere la partita non siamo riusciti a portare la partita nei nostri termini come volevamo noi ed è stato un errore perché se nel secondo tempo quando abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita eravamo più concentrati eravamo meno nervosi e usavamo più un po' la testa la partita con la Roma tu la vincevi perché avevi messo quasi la Roma al muro e la Roma non riusciva più a ripartire poi c'è stato il cambio di Vlauch per loro non ce la facevano più con Nico e lì abbiamo perso la profondità ecco perché io dico sì che Nico può giocare anche come Finto 9 può giocare come Centravanti però non è un'opzione che la puoi usare sempre perché ci vorrebbe un vice Vlauch un vice Vlauch ce l'abbiamo però è l'infermeria è un problema sì è un problema tutte le toppe non li poteva sistemare è giunto lì però finora il mercato della Juve è un mercato top mancherà con SESAO per infortuno vediamo se riusciremo a recuperarlo entro fine entro fine mese anche Milka come abbiamo detto è infortunato però con SESAO a oggi sarebbe stato l'uomo che quando entra il secondo tempo spacca le partite poi c'è stata una domanda davvero stupida io capisco tutto lì si è visto un po' Tiago Motto un po' nervoso gli hanno fatto una domanda su Rabiot che un mese fa quando c'è stata conferenza stampa e presentazione è giunto l'aveva ringraziato Tiago Rabiot che se n'era andato e a oggi dopo un mese Rabiot è senza squadra se dovrebbe tornare se ne dovrebbe richiamare e là giustamente Tiago Motto un po' sticcito ha detto non mi ha chiamato non l'ho sentito allora gli ho fatti bocca al lupo per tutto quello che vuole fare nella vita e oggi Rabiot è più un giocatore della Juve questa domanda qui se chiama se torna ma che domanda è avete la possibilità di fare domande di calcio e mi è andata a fare una domanda stupida se Rabiot tornasse se Rabiot qui se Rabiot lì Rabiot ha deciso di dire Dì alla Juve la Juve aveva proposto 7 milioni e mezzo per un contratto di due anni più tre di ingagno di contratto ha detto di no tutti noi quando ha detto di no pensavamo che avesse già la squadra ma oggi che il 13 in settembre Rabiot è spasso Rabiot si sta godendo la vita sul suo yacht però a oggi Rabiot senza squadra a oggi Rabiot ha perso oppure la nazionale francese per errori suoi il suo entourage io non ho capito la domanda in una conferenza stampa dove Rabiot non c'entrava niente e si stava parlando di Empoli io voi nel frattempo iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci diamo la posta ciao è fuori